Sarà un weekend dedicato alla bici in tutte le sue forme, il 4 e il 5 maggio al circuito ciclistico di Vialesi a Faenza. Si inizia sabato quando andrà in scena la tradizionale festa della bicicletta, l'evento ideato per ricordare Battista Benedetti, ispettore della Polizia Municipale, scomparso nel 2012 dopo una lunga attività professionale legata all'educazione stradale per bambini e ragazzi. Come ogni anno, a partire dalle 15, verranno organizzate ginkane e giochi per i bambini della scuola materna e della scuola primaria per imparare la sicurezza stradale. Il tutto in compagnia degli agenti della Polizia Locale e con la collaborazione del Servizio Istruzione del Comune, dell'Associazione Faenza per Te e dell'Associazione Ciclistica Faentina. A bordo pista sarà presente il meccanico delle bici che insegnerà come ripristinare una catena caduta e altri mille trucchi per mantenere in efficienza la propria due ruote. Non mancheranno le simulazioni di incidenti stradali per dimostrare i rischi dell'imprudenza in strada e il giusto comportamento da tenere in caso di primo soccorso. Domenica, invece, spazio e levapo le vetture a pedali impegnate nel campionato europeo che farà tappa anche a Cotignola il sabato. Dopo la sfilata e la presentazione delle coreografie dei singoli team in gara, una trentina quest'anno, scatterà la corsa della durata di 100 minuti. Impegnati, studenti delle scuole medie e delle scuole superiori ed anche ex studenti italiani e stranieri. Nutrita, come sempre, sarà la compagine francese. Particolarmente coinvolti gli alunni dell'Istituto Buccia, i quali spetta il compito di preparare le vetture a pedali anche per le altre scuole di fenza. Un impegno che viene portato avanti durante tutto l'anno scolastico grazie alla collaborazione con professori e con ex docenti oggi in pensione. 12.000 euro il contributo ottenuto dalla regione per preparare la gara, per coprire le spese per le trasferte estere delle altre tappe del campionato europeo e per realizzare progetti di scambi culturali. Il weekend è inserito all'interno del calendario della festa dell'Europa celebrata nella nostra città e che continuerà mercoledì 8 e giovedì 9 maggio rispettivamente con un concerto nella chiesa dell'ex complesso dei Salesiani ad opera dell'Ensemble d'Archi della Scuola di Musica Sarti e con un seminario all'Auditorum Sant'Umiltà dell'Iceo Torricieri Ballardini dal titolo Una scuola per i cittadini del XXI secolo.